e dirò grazie a te di cui siamo che bella casa il bagno poi che doccia il pezzo capito però comunque sentivo che era un pezzo che aveva bisogno di poi l'ho fatto l'ho fatto in progetto pizza kebab è un progetto completamente diverso vado da hit list da strada capito e che ha un suono completamente diverso però lo spirito è lo stesso e quello spirito che mi ha portato a finalizzare il brano di casa mia in modo vero e sincero perché per quanto possa sembrare spensierato questo è veramente è previsto il consiglio agricoltura non e e e E io e